Si è ufficialmente aperto l'iter burocratico per raggiungere al nuovo impianto unico integrato di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani. Il Consiglio Provinciale d'Imperia, nella sua ultima seduta, ha infatti approvato a maggioranza, con sette voti favorevoli, due astenuti, Biancheri e Casano, e nessun contrario, l'interesse pubblico della proposta in project financing per la realizzazione dell'impianto in località Colli. La valutazione del pubblico interesse, tappa iniziale obbligata dalle nuove normative del settore prima dell'approvazione di tutti gli aspetti tecnici dell'impianto e il punto d'arrivo di un impegnativo percorso politico amministrativo volto a dare una risposta efficace ad una nosa problematica del territorio, complessa e delicata. Durante la riunione è stato poi anche trattato il settore delle società partecipate. In primis è stato approvato all'unanimità l'adeguamento dello statuto sociale della Riviera Trasporti S.p.A. alle nuove disposizioni del decreto Madia. È stato invece rinviato l'aggiornamento del piano di revisione delle partecipazioni societarie per trovare soluzioni operative all'uscita della provincia dalla compagine societaria della società di promozione per l'università. Sempre in tremma di società il consiglio provinciale ha votato all'unanimità la chiusura della liquidazione di Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.R.L. Il consiglio durante la riunione ha infine nominato un rappresentante all'interno dell'istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea d'Imperia. Si tratta di Davide Agnese Barla, 37 anni, imperiese, nipote di Sandro Badellino, ex segretario dell'Ampi provinciale.